per gli under 20 nel 2019. Facciamo un applauso enorme, Maria Roberta Gerka! 3,80 metri per lei! E si presenta così, Maria Roberta Gerka! Sulla applausi per Maria Roberta Gerka! Roberta chiede 65 per la misura dei ritti, 4,10 metri. Il suo tentativo. Gerka, un grande applauso per lei! Piazza Sanu, Roberta! Vuole sentirci tutti! Il protocollo a noi basta chiedere e seguiamo tutte le richieste degli atleti. Averrà bisogno di questa musica, signore e signori, Roberta! 22, bronzo ai campionati italiani under 23, argento. Grazie! Oh! Bravo! mamma che ritmo che ha preso signore e signori Roberta 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 Bels Sarebbe il suo nuovo record personale Piazza 2022 Piazza Chanoo prova il suo record personale e noi gli facciamo un applauso gigantesco Roberta Kerka eccola, su il ritmo con le mani, accompagnamola verso il nuovo personal best ragazzi veramente di Roberta Kerka veramente di un niente, niente, niente niente no, ne ho bisogno garantisco che ne ho bisogno non ne hai bisogno io invece chiederei, è pronta? no, no, si sta preparando allora, io direi che visto la difficoltà perché siamo al suo personal best salire, salire, salire abbiamo atleti che hanno una personale di 5,50 sul ritmo per Roberta Kerka mani, 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 mani no, no, no no donna donna atleta Roberta Kerka sogno applausi per lei sogno applausi ma anche a volte salta a volte salta grazie a тебе